oh ciao mattia che bello vederti sto facendo una passeggiata al palazzo di ghiaccio mentre uno dei miei elfi da da mangiare alle renne sta dando loro dei licheni magici sono ciò che le fa volare quando avranno finito farò un volo di prova con loro intorno a tutto il mondo e chissà potrei volare sopra dove vivi tu in lombardia ecco la galleria del palazzo di ghiaccio qui appendiamo le fotografie più belle mattia ecco la tua hai 26 anni non è vero e vai a scuola so che c'è un dono speciale che ti piacerebbe ricevere fai parte della mia lista dei buoni quest'anno spero di sì mamma natale gli elfi e io abbiamo un sacco di sorprese per te mattia devo fare il mio solito giro con le renne ora puoi usare di nuovo la tua console polo portatile per parlare con me buon natale oh 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 oh